Con sopravvivenza delle persone che sono bravi, tanti più bravi, tanti meno bravi, ma tanti appassionati che hanno questa passione di far sentire la gente la loro capacità. Allora l'idea qui, tramite questa comunicazione, di chiedere ad Italia, tiri fuori il tuo talento, tiri fuori il tuo soul e ci mandi un provino, un videoteco, puoi iscriverti al sito web e poi io lo valuto e scegliamo un vincitore che suonerà un concerto con noi al Blue Note qui di Milano il 13 giugno. Il 18 di giugno ci sarà questa presentazione. Allora è un search, non è un talent search, io lo considero più un search for soul. Stiamo cercando veramente gente spiritosa, gente che hanno quel topo in più che potrebbe rappresentare la mia passione per la musica e la visione di chi ha, di cosa può essere un talento globale, un passo in più, gente che sono in grado di andare sui binari diversi di tutti gli altri.